Il dibattito è un dibattito molto interessante perché va a cogliere la grande opportunità della costruzione di una grande Napoli, una Napoli che si estende soprattutto verso il mare ma anche nell'entroterra che dà forza a tutti i comuni della città metropolitana, che vuole essere maggiormente rispettata e ascoltata dalla regione Campania e dal governo nei fondi europei dove si sta molto indietro da quel punto di vista e dove abbiamo una visione, una visione come ente protagonista nel rilancio sociale, economico e con la potenziale costruzione di tantissimi posti di lavoro in questo modo, quindi è un dibattito importante perché quando si discute soprattutto con giovani e con l'università si mettono in rete conoscenze, saperi, capitale umano e organizzazioni tra istituzioni.